Occhio al voto Occhio al voto Andiamo a conoscere meglio questi tre candidati al Consiglio Comunale di Fano. Iniziamo da Tiziano Busca. Busca è fanese, si è laureato a Urubino con un master alla LUIS in comunicazione e un master alla Politecnica di Ancone in organizzazione e gestione dei sistemi sanitari. Busca è stato direttore e coordinatore della direzione generale dell'Asur, area, territorio e ospedale. È autore di libri e pubblicazioni. Socialista è stato assessore alla sanità nella giunta del sindaco Cicetti, poi vicepresidente dell'ospedale Santa Croce. Inoltre ha ricoperto vari incarichi politici ed amministrativi in enti economici regionali. Già vice segretario regionale del PSI, il Partito Socialista Italiano, è consulente di strutture e organizzazioni sanitari. Andiamo avanti con Etia Lucarelli, marito di Silvia e babbo di un ragazzo di 19 anni e una piccola di 4. Direttore delle vendite, lavora da 20 anni con la responsabilità commerciale dell'area adriatica da Modena a tutta la Puglia nel settore del trattamento delle acque. Ha avuto esperienze che lo hanno portato a conoscere diverse realtà. Prima per 8 anni come responsabile della produzione aziendale presso una multinazionale con filiale a Fano, poi come titolare di un negozio di vendita di materiale per trattamento acque. Lucarelli è diplomato in ragioneria, ha frequentato due anni di università nell'ambito della comunicazione, oltre a studi di quinto livello in programmazione neurolinguistica e marketing per l'idoneità da responsabile d'aria nel settore delle vendite. Ha una passione coltivata fin dall'età di 8 anni per le attività di comunità, è stato attivo in associazioni di ogni livello sociale, dapprima come partecipante, poi come responsabile organizzativo. Ho la tendenza a ragionare per schemi obiettivi, ha dichiarato, per cui le mie parole d'ordine sono concretezza e organizzazione. Sono appassionato ed innamorato della città di Fano, che oggi con orgoglio, responsabilità e passione amministro nel ruolo di assessore. Stefano Pollegioni ha 63 anni, è nato a Roma ed è sposato da 35 anni con Stefania, con la quale ha due figli. La più grande è avvocato, l'altro studente liceale. Pollegioni è diplomato in elettrotecnica, graduato dell'arma dei carabinieri, ora in pensione. Si è specializzato in tecniche di indagini di polizia giudiziaria ed ha frequentato la scuola di formazione della difesa, ottenendo il massimo dei voti in comunicazione e relazioni con il pubblico. Nel 2007 ha iniziato il suo percorso politico con diversi incarichi. Ha condotto una battaglia in favore dei diritti dei militari in politica. Nel 2019 ha fondato la lista civica Nuova Fano, a sostegno del candidato sindaco Lucia Tarsi, mentre nel 2020 ha accettato l'incarico di segretario dell'Udc Fanese e delegato per il comparto e sicurezza. Pollegioni è anche autore dei primi tavoli regionali per le forze di polizia presso la presidenza del Consiglio regionale delle Marche. È stato un volontario del centro di ascolto Caritas Parrucchiale ed è componente del movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo. politicamente e da extra consigliare ha affermato, mi sono sempre impegnato per Fano, vicino ai cittadini, con concretezza e determinazione. Dopo aver letto le loro biografie, passiamo Silvano alle domande. Sì, benissimo. Iniziamo dicendo che ogni rappresentante ha a disposizione un certo numero di minuti per le risposte. Cominciamo quindi con la prima domanda che riguarda il tema della sanità, un argomento che mi sta veramente molto a cuore. Due anni fa partiva, come sapete tutti, la riforma del sistema sanitario regionale con la creazione delle AST, le aziende sanitarie territoriali. Una delle motivazioni di fondo di questo piano sanitario era quella che così facendo si sarebbe tornati ad essere più vicini al territorio e ai cittadini. Questo era uno degli obiettivi. Però ancora oggi, facendo un esempio anche banale, quando prenoti una visita specialistica ti dicono di andare magari a Fabriano o a Dancona. Quindi che cos'è che non funziona ancora in questa riforma sanitaria delle Marche? Avete a disposizione due minuti ciascuno. Il primo che deve rispondere è Tiziano Busca. Prego. Sul modello organizzativo si può discutere. Sulla qualità della proposta ci sono valutazioni diverse che sono legate alle tipicità delle prestazioni. Ma c'è un tema che rappresenta chiaramente l'inefficienza e l'incapacità politica, perché la sanità non è più un diritto del cittadino, ma è una via crucis, perché viene legato l'accesso e viene legata la cura. La caratteristica con cui si sono distinti i servizi sanitari era quello di poter accedere attraverso le prestazioni specialistiche, poter essere curati attraverso le prestazioni ospedaliere. Non è più così, ma non lo è perché c'è una insipienza nel modello di gestione. Si potrebbe addirittura prenotare un anno prima per tutti i cittadini delle Marche le prestazioni primarie necessarie alle patologie croniche di cui larga parte della popolazione è coinvolta. Questa cosa non si fa. Anzi, si è snaturato il processo di rapporto e di colleganza tra le strutture sanitarie di cittadini e tipica di questa cultura è diventata la migrazione. La migrazione verso questa struttura di questa provincia o dell'altra provincia senza rendersi conto che insieme alla patologia e ai problemi personali delle persone c'è qualcosa di più, ci sono i costi. Non si ha il coraggio di un confronto professionale con i professionisti perché c'è una legge che dice che qualora le liste d'attesa superano il tempo massimo previsto dalla legge le attività in libera professione dovrebbero essere in qualche modo ricondizionate. Ma siccome manca il progetto, come diciamo volgarmente a Fano, manca il manico, questa storia difficilmente vedrà una soluzione e sarà il vero problema per i cittadini della nostra comunità. Grazie Tiziano Busca. La parola a Etienne Lucarelli. Due minuti. Sì, ma oltre che non funzionare, avere un problema sulle liste d'attese, devo dire in questi giorni abbiamo avuto anche una signora che si lamentava perché è andata a chiedere un appuntamento, insomma gli è stato dato l'appuntamento a Fabriano e purtroppo per lei non sapeva neanche come arrivarci. Io devo dire sinceramente non funziona proprio il piano sanitario che è stato realizzato o quantomeno è stato raccontato ma ancora di quel piano sanitario che sarebbe anche la panacea di tutti i mali non è stato realizzato assolutamente niente e magari un dato politico si aspetta dopo le elezioni per dire che è impossibile non realizzare quel piano sanitario, insomma è sotto gli occhi di tutti il fatto che si sono dimessi i principali dirigenti a livello sanitario, quindi è sotto gli occhi di tutti che il castello della sanità stia un po' cadendo e sotto gli occhi di tutti che non ci sono più servizi, per cui tutto quello che è stato raccontato in campagna elettorale per cui serviva una sanità più vicina alle persone, quindi occorreva oltre che un ospedale a Fano, un ospedale a Pergolo un ospedale a Fossombrono, un ospedale a Pesaro, tutto questo castello qui purtroppo non tiene perché quanto si parla di sanità si deve essere seri nel fare una progettazione, un programma che può funzionare. Ecco io l'ho raccontato anche in un'altra condizione, io credo che si debba fare un'analisi seria si debba parlare con i medici, si debba parlare con i professionisti, non c'è stato un coinvolgimento vero neanche dei medici di base che lamentano delle criticità, quindi serve più coinvolgimento e serve fare un piano che funzioni. Stiamo investendo 200 milioni a Pesaro e stiamo investendo appena 20 milioni a Fano, abbiamo già portato 30 milioni a Pergola quindi vedete che questo modo di fare politica sanitaria assolutamente non funziona soprattutto quando i dati ci dicono che gli accessi al pronto soccorso di Fano sono ancora superiori rispetto a quelli di Pesaro. Insomma va rivisto il sistema e va fatta una politica sanitaria seria ed efficiente. Grazie Lucarelli, chiudiamo questo primo giro di domande con Stefano Collegioni. Io condivido l'ultima battuta del dottor Busca quando ha detto che non c'è il manico diciamo che c'è un manico tutto da ricostruire. Qui sembrerebbe che passa il messaggio che al momento che ci siamo noi parlo del centrodestra al governo, le cose non stanno funzionando ma se arriva qualcun altro rimettiamo tutto a posto, ma non è così perché questo è un problema nazionale il discorso delle liste d'attesa la regione se ne sta occupando moltissimo purtroppo non ci sono al momento medici, non ci sono tecnici e quindi la difficoltà principale è questa ormai anche andare come si usava un tempo perché noi voglio dire una cosa stiamo pagando le conseguenze di amministrazioni passate e quindi per ritornare diciamo in giusto regime ci vuole il tempo che ci vuole e mi sembra che l'Ast che è stata da poco ricostituita debba avere il tempo giusto per rinquadrare tutta la situazione e per cercare di risolvere. Al momento stanno pagando associazioni di medici in pensione privati proprio per andare incontro a queste difficoltà voglio ricordare che oggi come oggi se andiamo dal privato e io l'ho toccato con mano le liste sono molto lunghe anche lì proprio perché c'è un problema nazionale soprattutto che deve andare incontro a questa situazione la regione ricordo che ha emesso dei bandi di assunzione per nuovi medici e nuovi tecnici però sappiamo benissimo che per formare un medico e un tecnico non basta un giorno ci vuole un anno, due anni, tre anni quindi è tutto un percorso che in questo momento si sta facendo io voglio dire semplicemente che voglio essere fiducioso credo ancora che le cose si possano risolvere e voglio anche assicurare i cittadini di un'altra cosa che se noi verremo eletti non faremo l'ospedale unico ma cercheremo di valorizzare il nostro ospedale di Fano grazie Pollegioni sempre per rimanere in tema di salute della persona l'invecchiamento della popolazione causa inevitabilmente problemi di natura sociale gli anziani oltre ad essere una risorsa ovviamente quando stanno bene diventano un dramma per le famiglie nel momento in cui stanno male ritenete che a Fano ci siano le strutture sufficientemente adeguate per far fronte a questo tipo di emergenza inizia questo giro con due minuti ciascuno per la risposta Etienne Lucarelli, prego sì, questo è un altro problema serio della sanità qui usciamo dal piano sanitario entriamo nel piano fabbisogno regionale che è quello socio sanitario che risale attualmente all'epoca Ceriscioli quindi il piano che stiamo portando adesso risale a quell'epoca che ovviamente non è consono agli attuali fabbisogni c'è stata un'epoca che è quella che abbiamo passato insomma qualche anno fa quella del Covid che ha completamente destabilizzato anche questo mondo l'invecchiamento della popolazione lo sappiamo quindi gli anziani sono una grande risorsa ma vanno accuditi, vanno dati i servizi sia a quelle persone sole che sono a casa che magari stanno bene ma hanno bisogno di compagnia sia per tutti coloro che non sono autosufficienti quindi servono strutture addirittura il piano che abbiamo attualmente porta più posti nell'entroterra rispetto a quelli della costa quindi abbiamo posti liberi nell'entroterra e invece abbiamo una saturazione totale con mancanza di posti nella costa per cui va rifatto un piano serio da questo punto di vista vanno portate strutture e posti nuovi abbiamo veramente tanti privati che danno supporto con posti di RSA con posti di RP quindi con posti che danno supporto ai vari livelli di criticità che ci sono nella nostra società ma ecco abbiamo bisogno di un piano serio che porti nuovi posti soprattutto per quanto riguarda l'Alzheimer per quanto riguarda la demenza senile insomma criticità veramente che si stanno attenuando invecchiando la popolazione abbiamo bisogno di un piano diverso che rispetti le attuali necessità della nostra città e della nostra provincia grazie Lucarelli Stefano Collegioni Sì, allora noi abbiamo un dato del fine 2023 abbiamo 210 anziani a Fano ogni 100 giovani con un indice legato molto basso alle nascite sono d'accordo con i diai Lucarelli perché non abbiamo strutture sufficienti c'è bisogno di strutture soprattutto per andare incontro alle demenze come l'Alzheimer c'è stato un incontro qualche giorno fa con la fondazione Carifano proprio per valutare questa possibilità mi risulta che l'amministrazione comunale non era presente a questo incontro ma al di là di questo voglio sottolineare una cosa noi abbiamo anche molti anziani soli in casa che hanno bisogno di essere accuditi in tutti i sensi quindi c'è bisogno di spazi dove queste persone questi anziani possono passare le loro giornate c'è bisogno che attraverso anche i vari servizi sociali e le professionalità preposte siano vicino a queste famiglie per dare anche la possibilità a questi anziani di poter vivere fino alla fine presso le loro abitazioni presso i loro affetti questo è un aspetto che qualche volta viene trascurato un'altra cosa che voglio dire e che mi interessa particolarmente se ci saremo noi da giugno in poi è quello lì di fare un tavolo e riunire tutte le associazioni che si occupano di questi aspetti con le loro varie professionalità perché bisogna creare è importante creare una rete che dialoghi che si parli e che proprio attraverso questa rete possa andare incontro alle esigenze sia delle famiglie che degli anziani degli anziani stessi soprattutto bene grazie chiude questo giro Tiziano Busca prego mi piace ricordare che nel 1975 io ero loro assessore alla sanità nasce a Fano l'assistenza domiciliaria agli anziani avevamo una persona che andava a domicilio delle persone che dovevano essere assistite che si chiamava Peroni con un'assunzione trimestrale voglio dire che la storia a Fano è molto lunga ed è drammatico quello che sta succedendo anzi è vergognoso perché hanno fatto una politica di bottega a livello di regione Marche ed è inutile che ce la raccontiamo in un altro modo a Fano non c'è una RSA a Fano non c'è un ospedale di comunità le scelte che sono state fatte nell'ultimo piano sanitario regionale premiano Mondolfo premiano Fossombrone premiano i comuni dell'entroterra tanto noi siamo i turisti che portano gli anziani all'interno di quelle realtà ed è una cosa vergognosa che nemmeno l'amministrazione comunale l'assessore al welfare non abbia affrontato questo tema perché 60 posti letto previsti nella zona fanese non solo sono essenziali per la comunità sono essenziali per le famiglie ma avete idea di quanto sostengono le famiglie come costi per le badanti e per fare assistenza agli anziani a domicilio ci rendiamo conto che in questa economia noi abbiamo dei costi altissimi di decine di milioni di anni per poter garantire la nostra comunità ad un livello di dignità nella cura dell'anziano se assumiamo a questo che cosa? vorrei scommettere con qualcuno se è riuscito per un giorno ad avere una risposta dove poter collocare un anziano in una RSA si fanno i giri delle sette chiese prima si va al distretto poi si va al centro civico di Sant'Orso poi si ritorna al distretto poi si telefona alle case di riposo all'RP è semplicemente vergognoso questo significa che su questo tema c'è una insufficienza generale grave, molto grave e a me dispiace perché noi abbiamo fatto quella scuola da socialisti di tutela e di rispetto delle persone cogliendo l'umanità della gente Scaduto il tempo il tema della salute è strettamente legato anche a quello della qualità della vita non credete sia necessario e giusto progettare una città senza barriere architettoniche? Poligioni, iniziamo da lei due minuti di tempo Assolutamente sì questo è un tasto per me molto importante anche perché io ho un nipote nella condizione della disabilità per cui lo vivo in maniera molto vicina e l'ho sempre detto non basta fare passeggiate sulle carrozzine a rotelle per provare come si sta ma bisogna avere veramente un'attenzione forte nei confronti dei disabili purtroppo a Fano ancora non si parla di abbattimento delle barriere architettoniche a Fano parliamo di asfaltatura delle strade ma dimentichiamo i marciapiedi che sono proprio quei luoghi preposti per far camminare le persone ma anche i disabili con la sedia a rotelle speriamo quanto prima di mettere in atto il famoso piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche cosiddetto PEPA che è stato diciamo votato non da poco tempo e soprattutto bisogna approfondire attraverso anche un tavolo la conoscenza della disabilità e intervenire all'interno delle famiglie all'interno dei loro bisogni parliamo anche qui di assistenza parliamo anche qui di rete delle associazioni pronte ad andare in aiuto a queste situazioni la spiaggia accessibile che io l'ho proposta da anni e nessuno mi ha mai ascoltato c'è pochi spazi ancora nelle spiagge per fortuna che ci sono ma si può fare molto molto di più esistono spiagge in altri luoghi come Fano del mare dove hanno all'interno delle concessioni delle apparecchiature delle strutture per poter portare i disabili dentro l'acqua è molto molto importante questo approccio che deve esserci di condivisione di inclusione e quant'altro e poi dico in ultima cosa e ci tengo tantissimo io dico che chi è nella disabilità ha il diritto come tutti di scegliere dove andare bar, ristoranti, locali e noi dobbiamo dargli come un'amministrazione questa possibilità grazie Collegioni passiamo a Busca anche per lei due minuti di tempo parlare di barriere architettoniche in una città nel 2024 significa veramente testimoniare che non c'è nessun tipo di attenzione dal punto di vista di accoglienza per una tematica estremamente complessa e difficile c'è un problema che è la necessità di essere selettivi negli investimenti scegliendo settori non si possono fare azioni senza avere una indicazione un progetto politico in testa a Fano questo non c'è siamo arrivati a fare il piano ora vorrei solo ricordare che gli unici accessi disponibili sono stati realizzati da un'associazione la GFHI come l'unico accesso disponibile all'interno delle spiagge di Fano sono sempre state realizzate all'interno di quelle associazioni perché chi vive il disagio è consapevole della necessità di dare delle risposte ma l'amministrazione in sé ma le politiche in generale a tutela della disabilità debbono essere proattive non possono essere assistenziali se il progetto comunale non vede una logica di sviluppo è inutile fare ricorso alle associazioni le quali possono fare alcune cose ma non altre l'investimento di realizzare una città accessibile appartiene ad una cultura che è economica ad una cultura che è produttiva ad una cultura che è urbanistica ad una cultura che consente di vivere nell'insieme non la differenza ma includere e raccogliere della differenza il valore per tutti gli altri cittadini è evidente che questo sarebbe un grande salto ma il primo salto per poterci arrivare è quello culturale e credo che in questo noi abbiamo bisogno di spostare un po' l'obiettivo l'obiettivo non possono essere i progetti delle associazioni il progetto è politico il progetto è comunale poi le associazioni diventano soggetto che appartiene alla comunità e che con la comunità arriva a realizzare il percorso chiudiamo questo ciclo di risposte con Etel Lucarelli sì sono d'accordo con Busca quando dice che l'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche è un fatto culturale l'inclusione non è di fatto una questione di correttezza politica è la chiave della crescita di una comunità questa è una frase famosa che io mi sono fatta mia che mi porto sempre dietro non sono d'accordo sul fatto che in questa città non è stato fatto niente proprio perché è un tema molto delicato complicato difficile che necessita di tempo per essere realizzato è assolutamente vero che dieci anni fa non è stato fatto niente è stata concepita una città che è cresciuta con le barriere architettoniche è vero che oggi abbiamo molti problemi nella città ma è altrettanto vero che si è aperto un dialogo con tutte le associazioni a GFI comprese ma anche con tante altre per realizzare un piano che è il PEBA è vero che insieme con l'assessore al welfare ad esempio abbiamo portato avanti un progetto che si chiama spiagge inclusive dove abbiamo portato in ogni spiaggia una postazione dedicata a persone con difficoltà con un lettino ad hoc un po' più alto rispetto agli altri con un brellone fatto apposta insomma per le disabilità abbiamo portato in più della metà delle spiagge le sedie job per portare le persone in acqua stiamo valutando insieme all'assessore al welfare la bandiera Lilla che è un percorso è un obiettivo che ci siamo posti perché bandiera Lilla significa essere città inclusiva certo c'è un percorso molto importante da fare è il PEBA l'abbattimento delle barriere architettoniche ad esempio nelle spiagge nei musei il nostro museo in questo momento non è accessibile è una delle prime opere che va fatta e uno nella riqualificazione del museo è una delle prime cose che abbiamo considerato ecco tutte queste cose vanno considerate in una visione di città e anche il progetto città dei bambini e delle bambine che va portato avanti recita proprio questo che la città deve essere la misura dei tutti nella nostra intenzione è quello di portarla avanti con serietà con un percorso necessario per tutti bene avete parlato anche di mare quindi andiamo proprio verso il mare cioè verso l'estate e occupiamoci sempre di un altro problema abbastanza complicato per i fanesi che sono quello dei parcheggi soprattutto nelle zone a mare ricordo le spiagge del Lido della Sassonia ma anche andare a Gimarra oppure andare al mare a Torrette diventa un problema perché vengono presi d'assalto i pochi parcheggi che ci sono voi vedete delle soluzioni per trovare un rimedio a questo problema comincia a rispondere Tiziano Busca avete a disposizione tre minuti ciascuno se qualcuno di noi farà l'amministratore dopo le elezioni comunali io chiedo che venga restituita a ciascuno di noi questa trasmissione per cogliere le domande che sono state fatte perché queste per un amministratore in realtà sono le idee guida di un progetto politico ma anche gestionale di città perché i parcheggi come dicevamo prima per le difficoltà dell'inclusione delle persone con handicap sono un aspetto che debbano essere prioritari nel governo di città non è una cosa del di cui è un evento di fronte al quale la politica deve dare risposte perché la risposta ai parcheggi è la risposta di una diversa città cosa che non avviene negli strumenti di programmazione perché fino ad oggi noi abbiamo venduto i parcheggi monetizzandoli consentendo nuovi insediamenti laddove il numero della popolazione era più bassa perché veniva pagata la tassa per non realizzare a livello interrato o comunque gli spazi di parcheggio e questa la dice lunga sull'incapacità anche di trovare spazi diversi perché realizzare un parcheggio è difficile nel progettarlo nel trovare la logica della mobilità nel dare risposte di come questa città si sviluppa se uno non ha il senso di queste cose diventa difficile fare discorsi completi realizziamo una zona industriale dove si prevedono un passaggio di 200 camion al giorno con un arricchimento di popolazione di rischi di polveri e non ci rendiamo conto che quell'area è inappropriata per quel tipo di sviluppo ma stiamo discutendo del piano regolatore quindi lo fanno tecnici c'è una supervisione di tipo politico qual è il tema allora? il tema è che si ha un'immagine di città del tanto per e il tanto per non paga perché il tempo ci ha insegnato che la dimensione di essere città è un fatto legata non a un evento è che se ci sei o non ci sei perché questa è la dinamica del tempo di oggi se Fano ha capacità di rispondere a questi temi ha la capacità di dare risposte nuove ai cittadini se Fano non ha la qualità politica per rispondere a questi temi Fano corre il rischio di fare la fine di questa gloriosa squadra l'Alma Juventus Fano per cui scendiamo andiamo verso l'eccellenza ma non è certamente un salire in una dimensione di novità si sono fatti degli sforzi non è che non si è fatto nulla però manca quel filo conduttore di un progetto unico che dà testimonianza di valore ad una definizione nuova di città non si possono narrare i percorsi i percorsi se si narrano si devono anche individuare nelle risorse se si fanno opere che non sono in grado di poter dare questi tipi di risposte è chiaro che ovviamente i soldi vengono spesi per le manutenzioni che sono un fatto ordinario ma non per progetti che debbono essere invece realizzati grazie Busca parola a Etienne Lucarelli sì mi perdonerà l'amico Tiziano Busca insomma io apprezzo il suo modo di interloquire ma non mi piace il tanto per nel senso che poi invece quello che mi piace trasferire è che le cose le idee la visione messe in atto anche in questi ultimi anni vanno proprio in una direzione di visione di città di voler costruire la città del futuro uno su tutti ci siamo messi insieme ad un tavolo economico che ha funzionato abbiamo passato uno dei periodi più difficile della storia dell'economia italiana e non solo che è quello del covid del mondo direi più che italiana e ora finito questo abbiamo fatto uno studio socio-economico della città proprio per capire quali sono le necessità vere e insieme allo studio socio-economico dopo questo abbiamo portato in questo momento il PUMS il piano urbano della mobilità sostenibile che recita proprio quelle che sono le necessità della città in una visione futura di cosa bisogna della città di cultura riguardo alla mobilità sostenibile ancora il 60% dei fanesi e lo recita lo studio vengono in centro storico con l'auto ovvio servono percorsi ciclabili ma serve anche una cultura e dei mezzi che ci fanno viaggiare di più con le biciclette con le bici elettriche insomma bisogna arrivare al centro in modo sostenibile poi ovvio c'è bisogno anche di un piano serio per quanto riguarda i parcheggi e questo l'abbiamo già annunciato quindi serve una previsione di parcheggi all'esterno delle mura del centro storico come potrebbe essere ad esempio acquisendo la caserma lì potremmo realizzare un vero e proprio parcheggio adatto per il centro storico magari anche multipiano potremmo vedere altre zone della cinta urbana dei parcheggi che siano a servizio come ad esempio dei parcheggi più lontani con delle navette che portano la città nel centro storico le persone nel centro storico nel piano regolatore abbiamo previsto nella zona di Sassonia perché sappiamo che lì c'è un grave problema dei parcheggi un'area proprio destinata ad un ulteriore multipiano visto che il Van Vitelli in questo momento è pieno un ulteriore multipiano che va da servizio sia della zona mare sia della zona del centro storico perché sono molto vicine insomma tutto questo è un piano studiato con le attività economiche studiato con alcuni cittadini che va messo in pratica per questo serve un percorso cittadino e una visione anche che ci porta nel futuro ecco perché io dico sempre in questo periodo storico attenzione a creare discontinuità anche nei processi politici perché serve dare a continuità questa visione per non interrompere i processi e per poter portare a casa tutte quelle necessità che oggi hanno le attività economiche che hanno i cittadini e che ha la nostra città Bene grazie Lucarelli chiude questo giro Stefano Polleggioni mi fa piacere ascoltare l'assessore Tia Lucarelli e tutti i suoi propositi dopo dieci anni di amministrazione di questa di questa amministrazione comunale perché il problema dei parcheggi è un problema che ha toccato Fano da sempre e l'inclusività di cui parla l'assessore io la vedo un pochettino all'inverso perché mettere i parcheggi quelli che ci sono non cercarne altri e metterne altri a pagamento tende ad allontanare più che avvicinare noi abbiamo avuto l'esperienza giù al mare quando si è deciso di mettere i parcheggi Sassonia e Lido a pagamento io ho raccolto 800 firme dei cittadini residenti contrari a questa a questa decisione e mi sentì dire dal sindaco beh ma a Riccione pagano i parcheggi e io risposi e dissi beh ma noi non siamo Riccione noi dobbiamo far sì che avere una visione che non allontani anche il turismo ma lo avvicini mettere i parcheggi a pagamento in quel brevissimo tratto perché noi non abbiamo tratti lunghi come altri litorali del mare significa non essere non essere inclusivi al detto questo feci un'altra proposta dei parcheggi nel perimetro della caserma Paolini e di fronte andando verso Porta Maggiore dove anche lì dissi noi dobbiamo portare la gente in centro perché altrimenti i commercianti ne pagheranno le conseguenze e feci la proposta addirittura di non far pagare la prima mezz'ora e di mettere a 50 centesimi la seconda mezz'ora in modo che chi volesse soffrire del centro anche per raggiungere un esercizio commerciale acquistare e ritornare aveva comunque un'ora di spazio a un prezzo e a un costo più basso detto ancora questo sì noi nel nostro programma che presenteremo sabato alle ore 10 al Politeama abbiamo parlato dei parcheggi multipiano perché a Fano è meglio non scavare quindi faremo un tavolo tecnico dovremmo individuare delle aree per realizzare dei parcheggi multipiano proprio per andare incontro a questa esigenza grazie noi ci fermiamo per qualche istante poi torniamo ad occhio al voto parleremo di tanti temi tra cui sicurezza quartieri ed altro a tra poco cari telespettatori bentornati ad occhio al voto che oggi ospita Busca, Lucarelli e Pollegioni possiamo andare avanti con le domande Silvano grazie grazie Simona a proposito di civismo e buona educazione episodi di violenza giovanile atti di teppismo ma anche mancanza di rispetto delle più elementari regole come i parcheggi indiscriminati in zone vietate gli ingressi in ZTL senza permesso l'abbandono di rifiuti è questa dovuta ad una mancanza di controlli oppure ad una cattiva educazione ricevuta cosa ne pensate ci sono tre minuti ciascuno per rispondere inizia Etienne Lucarelli si è ovvio che stiamo vivendo un periodo storico veramente molto complicato anche dal punto di vista etico io dico che le persone la città dovrà sempre di più unirsi in progetti comuni prendersi per mano per accompagnare la città verso il futuro questo ovunque sia nel centro storico che nei quartieri mi viene in mente un progetto fatto dopo delle situazioni che erano nati a Sant'Orso abbiamo preso le associazioni di quartiere realizzato un evento dedicato ad Halloween e lì abbiamo coinvolto anche i giovani insomma lì c'è stata una situazione bella piacevole in cui si è risolto un problema che rischiava di diventare un problema veramente di etica giovanile dove i giovani se ne andavano in giro e creavano dei problemi nei quartieri anche hanno distrutto la piccola libreria che avevamo fatto ecco però quello della sicurezza è quello dell'accompagnare la città verso una crescita comune è un tema fondante della nostra comunità così come lo sono come la sanità quello della sicurezza è un tema preponderante è chiaro che noi abbiamo fatto un lavoro importante in questo tempo ricordo che dieci anni fa le telecamere presenti in città erano quattro oggi le telecamere presenti in città sono 165 e controlliamo i varchi abbiamo persone della polizia locale che fanno controlli tutti i giorni controlliamo i varchi della città controlliamo i quartieri controlliamo le zone dove purtroppo le persone lasciano spazzature ovunque nella città quindi abbiamo dovuto controllare le isole ecologiche è altrettanto chiaro che non è soltanto la polizia locale rispetto a queste situazioni rispetto alle situazioni di malvivenza giovanile che vediamo anche in centro storico tutti i giorni non è soltanto la polizia locale a poter risolvere tutto ricordo che noi nel nostro regolamento abbiamo inserito la possibilità di applicare il decreto Minniti all'interno del centro storico ovvero l'allontanamento delle persone che hanno comportamenti complicati per il centro storico allontanarli dal centro storico lo stiamo applicando costantemente ma è altrettanto vero che noi abbiamo bisogno di un maggiore supporto visto che è stato più volte detto da parte del commissariato da parte della polizia stradaria da parte dei carabinieri abbiamo maggior supporto bisogno di maggior supporto delle forze dell'ordine nella città di Fano è stato più volte richiesto questo è un problema che deve arrivare è una soluzione che deve arrivare dal governo nazionale spero veramente che il governo di centro destra a livello nazionale veda questa necessità e ci dia risposte pronte tra l'altro anche il procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona ha evidenziato delle condizioni delicate di infiltrazioni mafiose ecco la nostra città ha bisogno di agire subito di fare prevenzione per tenere lontano queste possibilità ecco solo in questo modo riusciremo a risolvere i problemi di sicurezza attuali nella nostra città bene grazie tre minuti anche per Stefano Polleggio sì allora stranamente sono a grandi linee anche d'accordo su quello che ha detto l'assessore Lugarelli bisogna sicuramente ricostruire anche la cultura del buonsenso e questo viene anche guidando chi sbaglia attraverso anche i controlli delle forze dell'ordine intanto premetto e ringrazio polizia carabinieri polizia locale che fanno il possibile ultimamente abbiamo avuto notizia di dieci arrivi della polizia di stato alla questura e quindi mi auguro che il nuovo questore che è una persona molto in gamba professionalmente e anche faccia arrivare alcuni di questi uomini a rafforzare il commissariato di Fano esistono delle interrogazioni al governo proprio per l'innalzamento del commissariato di Fano per avere proprio più personale perché noi abbiamo 121 chilometri quadrati di territorio da controllare e purtroppo sappiamo benissimo che se non ci sono sufficienti pattuglie è difficile da controllare anche perché quelle pattuglie che sono fuori se impegnati nei vari servizi o interventi spesso rischiano di stare ferme anche delle ore e quindi non c'è nessuno che controlla il territorio l'amministrazione comunale come ho sempre detto deve essere collaborativa attraverso la polizia locale quindi noi lo faremo se eletti cercheremo di mettere più personale tra i cittadini nella città formeremo un tavolo di concertazione con le forze dell'ordine proprio per insieme programmare dei servizi per controllare meglio il territorio per quello che riguarda la presenza noi abbiamo delle presenze ultimamente sono successi dei fatti a parer mio e anche per esperienza io sono stato nelle forze dell'ordine molto significativi perché gli ultimi fatti che sono accaduti quando si parla di regolamento di conti vuol dire che si stanno formando delle bande che si stanno contendendo i territori e questo è un dato che non può essere sottovalutato e ha bisogno di una grande riflessione e come si risolve il problema con il controllo le telecamere sono molto importanti servono per le indagini servono quando il fatto è già accaduto noi a Fano dobbiamo tornare a parlare di prevenzione e insieme organizzare dare ai cittadini la sicurezza che possano vederla con i propri occhi cioè gli uomini e le donne in divisa che girano il centro storico che girano la città che girano il territorio quindi dobbiamo essere fortemente di supporto alla polizia e ai carabinieri per arrivare a una sicurezza sicura grazie Pollegioni chiude Tiziano Busca sì quando io penso quando la politica parla di sicurezza deve usare bene le parole anche da un punto di vista semantico dargli il giusto significato per due ragioni primo perché questo senso di disagio che viene vissuto dai cittadini è un fenomeno indiscutibilmente presente ma soprattutto per distinguere quello che è la criminalità da quello che è un elemento di devianza giovanile perché il tema della sicurezza può essere visto anche da un altro punto di vista che non è soltanto l'elemento del fatto che poi viene riportato dentro i canoni di una consapevolezza perché le forze dell'ordine agiscono hanno capacità e intelligenza per sapere che cosa debbano fare non sono bande sono compagnie deviate e qui è un tema che si apre che è un tema della socialità perché io credo che questi fenomeni di soggetti che si aggregano rappresentino più una marginalità ed una marginazione di quei soggetti rispetto alla gravità per cui compiono i fatti che sono sicuramente gravi perché distruggere panchine rompere biblioteche tavoli ma qual è il problema di fondo è che secondo me questi fenomeni li possiamo leggere e l'incapacità di non leggere questi fenomeni sono frutto di una non visione di integrazione da un lato ma di proposta politica dall'altro ci sono psicologi ci sono assistenti sociali ci sono vigili io riterrei che gli assistenti sociali vadano in strada gli psicologi vadano in strada i vigili facciano loro attività nei quartieri perché questo è l'elemento su cui vive l'humus c'è stata l'esperienza di Poderino dove la comunità dialogante ha deciso di intervenire quei fenomeni che si erano manifestati sono diventati una cosa che si è recuperata attraverso il dialogo perché sono culture che vanno integrate sono fenomeni che hanno bisogno di rappresentanti di conoscere e di conoscersi se si usa il buonsenso se si usa la consapevolezza è ovvio che dietro c'è un ruolo diciamo tra virgolette di intelligence che viene svolto dalle forze dell'ordine però la verità è che se una comunità parla ed è consapevole deve fare anche delle scelte allora meno posti all'interno degli uffici più posti in mezzo alla gente perché la città vive con le professionalità di cui il comune dispone passiamo ora all'accoglienza turistica ci sono diversi cantieri soprattutto in zona mare c'è chi sostiene che tali interventi non debbano essere realizzati in questo periodo abbiamo strutture alberghiere spesso non adeguate per l'accoglienza di un gran numero di sportivi o di visitatori nel caso di grandi manifestazioni a proposito di eventi perché non promuovere il calendario di quegli estivi prima? avete tre minuti a disposizione parte Stefano Polegioni sì anche questo è un tema importante intanto vorrei dire al dottor Busca ne approfitto un attimo che condivido pienamente tutto quello lì che ha detto in tema di sicurezza non ho avuto il tempo perché erano cose che avrei voluto aggiungere quindi sono d'accordissimo per quello che riguarda invece le strutture ricettive comunque quello che coinvolge anche il turismo sì intanto che abbiamo dei cantieri aperti in questo momento che non credo che verranno chiusi e quindi ormai siamo a ridosso dell'apertura della stagione e questo sarà sarà un grande problema abbiamo bisogno le strutture sicuramente hanno un grande bisogno di essere adeguate adesso diciamo se noi guardiamo con gli occhi altre città altre zone dove c'è il turismo abbiamo molti esempi che possiamo portare anche a Fano perché i BNB lo stesso sistema BNB riportato nelle strutture alberghiere comunque strutture alberghiere comunque adeguate adeguate anche per la disabilità e questo è molto importante quindi c'è una riflessione da fare e ripeto io non ho la soluzione subito in mano ma condividendola anche con la coalizione e anche con Luca Serfilippi sicuramente questo è un tema che è estremamente importante per la città che merita una riflessione in un tavolo tecnico dove bisogna far sì che aiutare anche chi è in possesso delle strutture alberghiere anche in qualche modo con atti diciamo di frettolosi per certi versi chiamiamoli così di far sì che intervengano perché c'è anche un discorso del decoro noi abbiamo degli alberghi che sono chiusi che sono abbandonati quindi benvenga chi viene in città a investire per le strutture alberghiere abbiamo bisogno di rivedere tutto quello lì che sono l'aspetto del mare quindi il decoro il fatto che i cittadini si sentano di accedere a questi luoghi e quindi si sentano attratti da tutto questo per quello che riguarda gli eventi non si possono gli eventi vanno organizzati un anno prima per l'anno dopo perché ultimamente i cittadini non hanno neanche il tempo di recepire il discorso degli eventi ma non c'è neanche il tempo di farli conoscere anche a livello nazionale attraverso tutti quei mezzi social che abbiamo quindi c'è un grande grandissimo lavoro da fare grazie Poligioni Busca passiamo lei sempre tre minuti a disposizione ma a me piace questa domanda perché io ne faccio un'altra la faccio a me stesso quando fanno diventerà città perché il tema degli eventi non sono le stagioni noi ragioniamo in una maniera che è molto lontana da quello che è in realtà il sentimento del cittadino della popolazione perché il programma è la vita di una città e la vita di una città vive 12 mesi non la fai a stagioni certo cadenzierai secondo un determinato tipo periodo un determinato tipo modo di operare questa o quella scelta questa o quella proposta ma la questione di fondo è un po' che ha cercato di affrontare l'assessore lucarelli impostando una politica turistica diversa è rendere in questa città un attivare un volano di investimento economico noi non abbiamo strutture alberghiere che possano competere non abbiamo strutture alberghiere che siano in grado di dare risposte economicamente sostenibili per la città da un lato ma per gli imprenditori dall'altra perché l'economia del turismo si è profondamente modificata in tanti modi trasformando stesso la stessa struttura dell'accoglienza si parla dell'albergo diffuso si parla di condotel ma il tema vero è che cosa ci faccio io in un'economia di questo tipo se non sviluppo le identità di questo territorio il tema del turismo è frutto di unicità io vado in quel posto perché c'è solo lì quella cosa e allora io ho le terme io ho un aeroporto io ho una struttura che in qualche modo mi attira perché il centro storico di Fano è particolarmente ricco perché voglio scoprire che cos'è la rosa dei malatesta perché è stata scolpita 40 anni prima di quella che era la scoperta dell'America ecco se noi riusciamo a rendere in questa logica un percorso identitario questo volano che è culturale sicuramente produce delle forze nuove che su un piano di impostazione politica generino dei processi diversi che sono figli di scelte che ovviamente non appartengono soltanto alla realtà comunale ci vuole una politica regionale sul turismo ci vuole la capacità di consentire agli imprenditori di investire mettendo a disposizione risorse perché se noi non cogliamo l'insieme di questo progetto è chiaro che alla fine facciamo le sagre e diventiamo la città della Proloco Grazie Busca Ete Lucarelli passiamo a lei Sì a me le critiche di questi giorni mi hanno fatto un po' sorridere perché sono figlie probabilmente di incapacità o di una mancata conoscenza adesso non voglio essere fazioso ma una mancanza di conoscenza di come si gestisce il turismo quindi qui tutti parlano ma nessuno poi entra nel merito e conosce perché? Perché inutile dire come ho sentito in questo studio alla città servono applicazione perché bisogna raccontare meglio gli eventi già un anno prima quell'applicazione c'è da tre anni ed è stata premiata a Bergamo e Brescia come innovazione tecnologica della città di Fano premiata a Bergamo e Brescia capitale della cultura poi mi dicono ah ma gli eventi bisogna promuoverli un anno prima faccio presente che al 7 novembre abbiamo presentato per la prima volta nella storia della città un programma eventi primavera autunno inverno che raccontava la città anche nel periodo invernale sono d'accordo con quello che ha detto Busca bisogna raccontare un anno della città perché la direzione che abbiamo preso con gli eventi è impostare nei vari mesi dell'anno in base alle caratteristiche della città un periodo in cui si raccontano le caratteristiche della città è chiaro che nel mese invernale va il periodo natalizio con tutto quello che ne consegue è chiaro che nella primavera va la vita all'aria aperta e noi siamo un territorio fantastico per questo come insieme alla gastronomia insieme alla cultura è chiaro che nel periodo estivo va il carnevale l'abbiamo raccontato questo non solo l'abbiamo raccontato l'abbiamo portato alla BIT abbiamo fatto un accordo con la Camera Italiana di Commercio a Nizza e siamo andati in una fiera con tutti i tour operetero francesi per raccontare tutto questo abbiamo raccontato tutti gli eventi della stagione estiva tra l'altro c'erano proprio gli albergatori col presidente Cecchini a fare quella fiera e raccontare come era la città quindi è stata fatta una politica turistica di valorizzazione delle nostre identità importante se oggi noi abbiamo in cantiere la realizzazione di un museo dedicato a Vitruvio di realizzazione di un ecomuseo dedicato alle tradizioni marinare di realizzazione della fabbrica del carnevale è perché abbiamo voluto dipingere la città del futuro e far capire ad eventuali imprenditori che la città di Fano crede nel turismo quindi quando qualcuno mi dice ci sono i cantieri in città viva Dio ci sono i cantieri in tutta Italia perché stiamo vivendo in un periodo dove entro il 2026 bisogna spendere i soldi del PNRR e neanche li stiamo spendendo tutti il problema è non spenderli quindi certo che bisogna fare i lavori stiamo cercando di fare nel miglior modo possibile delle criticità nelle città italiane non a Fano ci sono ma dobbiamo essere consapevoli che sono investimenti necessari per far crescere la città e stiamo dipingendo una città nella miglioria del lungomare nella valorizzazione delle sue caratteristiche in una sua attrattività di fondo che deve attrarre investimenti e qui servono anche i privati servono anche le associazioni serve anche l'associazione degli albergatori che ci aiuti a concepire dei family hotel dei bike hotel insomma tutto quello che serve alla città grazie Lucarelli bene abbiamo finora parlato di centro di centro storico di zona mare ma un'ultima occhiata invece la vorrei dare alle frazioni di cui magari ci si ricorda solo in queste occasioni quando arrivano le elezioni ci sono nei vostri programmi interventi concreti per migliorare la qualità dei nostri centri periferici avete tre minuti ciascuno inizia questo giro Tiziano Busca prego si inizia il giro perché noi il giro l'abbiamo fatto come coalizione insieme a Stefano Marchegiani in tutti i quartieri della città intanto c'è la consapevolezza che esiste la necessità di un dialogo permanente tra i cittadini gli amministratori i politici le istituzioni perché poi ci si rende conto confrontandoci con le persone da un lato della tanta ricchezza delle opportunità che ci sono nei vari quartieri dall'altro delle esigenze che sono oggettive che non è soltanto il tema della strada o della lampadina perché ci sono realtà che hanno un significato forte soprattutto perché pongono un problema il rapporto tra il centro e la periferia perché da un punto di vista anche sociologico questa trasformazione che è accaduta nella realtà fanese dal primo piano piccinato del 64 ad oggi non ci sono state quelle forme di progettazione integrata in maniera tale che ci sia un equilibrio tra le varie realtà ci sono quartieri più sviluppati altri quartieri che sono rimasti come il tempo quartieri che possono dare tante opportunità penso a Carignano penso a Camminate per esempio dove c'è il famoso castello con la testa penso a Centinarola che è un'area cerniera tra quelle che sono le prime colline e soprattutto il contesto dell'entroterra della prima fascia collinare con Novilara Candelare e tutto il resto perché dico questi punti perché poi abbiamo altre zone che sono estremamente complesse Metauriglia che ha testimoniato la volontà di essere identitaria in quella che è la sua storia e tradizione inventandosi e riproponendo alla gente questo percorso ma è una realtà che è sfrangiata è una realtà che è tagliata in due da una struttura che è la strada statale da un fatto di tombaccia che è la stessa caratteristica di quel territorio rivivere il processo dei quartieri per noi è fondamentale noi come coalizione il primo punto che abbiamo posto all'ordine del giorno è restituire l'attività di partecipazione ai cittadini mettendo in piedi di nuovo i quartieri ma non è che lo fai soltanto perché hai bisogno del confronto perché capisci che nasce una progettualità nuova una presenza che si articola e che incomincia a testimoniare quella città narrata che purtroppo si è persa in una visione non centralistica del centro rispetto alla periferia ma l'aver voluto trasformare il centro in periferia e la periferia in centro cosa che non ha dato equilibrio non ha dato risposte ha generato situazioni di difficoltà per gli abitanti e per le realtà cittadine che ovviamente vanno riportate ad un criterio di programmazione di unità e quindi l'interesse fondamentale di Fano è proprio partire da questo elemento di base per poter costruire un processo di comunità che metta tutti sullo stesso piano di opportunità grazie Busca parola a Etienne Lucarelli sì se devo dire che c'è qualcuno che ha pensato ai quartieri negli ultimi cinque anni e non è arrivato insomma a fare i giri nei quartieri soltanto nell'ultimo periodo di campagna elettorale quelle probabilmente sono proprio le liste civiche di oggi insomma rappresento quelle della città di Fano che hanno continuato a mantenere un rapporto con i cittadini e con i quartieri veramente sempre molto aperto cercando di capire quelle che sono sono state e sono tuttora le necessità dei quartieri per cercare di essere pragmatici e portare le vere necessità e se oggi vari quartieri e i cittadini insomma li conoscono hanno una serie di progetti attivi è proprio perché abbiamo ascoltato quelle esigenze e abbiamo cercato di metterle in campo e anche per questo che io dico serve dare continuità a questi progetti perché se abbiamo portato all'attenzione della politica cittadina la necessità del borgo di Metauriglia le necessità di Ponte Sasso le necessità del villaggio Ciano di San Lazzaro o altre attenzioni che si sono aperte con la realizzazione di scuole nei vari quartieri della città è proprio perché sono stati ascoltati i cittadini un rammarico però ce l'ho lo devo dire perché è una cosa che anche purtroppo a causa del periodo Covid non siamo riusciti a fare non l'abbiamo accelerata è quella dei consigli di quartiere ed è veramente una cosa che io voglio fare appena insediato con la nuova amministrazione i consigli di quartiere sono fondamentali perché noi abbiamo bisogno di un ente strutturato formalizzato all'interno di ogni quartiere abbiamo bisogno di ridefinire i quartieri non vanno più bene le sei circoscrizioni sono cambiate le dinamiche quindi sono varie le necessità che ci sono abbiamo bisogno di formalizzare un ente che sia la lunga mano dell'amministrazione per una serie dei progetti ecco allora qui possiamo realizzarci progetti che riguardano la prevenzione della sicurezza possiamo realizzarsi dei progetti culturali possiamo realizzarsi dei progetti sociali prima parlavamo degli anziani che sono in casa soli perché non ripensare e lo diceva prima anche Busca ad un elemento un infermiere di quartiere che dia supporto a quelle persone sole anche soltanto quando c'è la necessità di fare la puntura perché la persona sta male ecco non si possono attivare insieme i consigli di quartiere una serie di servizi che sono fondamentali per aumentare la qualità della vita e poi c'è il tema della viabilità quindi il rapporto anche viario tra i quartieri e la città noi siamo una città lunga 17 km di costa che ha necessità di essere collegata quindi abbiamo bisogno di una grande viabilità all'interno ma anche una viabilità ciclabile quindi qui tutto il progetto fatto con la ciclovia adriatica ecco ha il valore di tenere uniti nella costa tutti i quartieri e deve essere sempre di più unita noi siamo dell'idea di realizzare una ciclabile nell'attuale ferrovia Fanurbino di tenere uniti anche i quartieri dell'entroterra per fare in modo che centro cuore della nostra città si colleghi con i quartieri che sono la sua anima sentiamo ora l'opinione di Stefano Polligioni prego beh allora siamo in due a volere il consiglio di quartiere che è estremamente importante solo che era la promessa di questa amministrazione comunale da quando si è insediata e ne riparliamo a fine mandato noi lo faremo e lo faremo certamente è un punto di riferimento per i cittadini del luogo dei quartieri in tutti i sensi per ogni bisogno compresa anche la sicurezza ed è estremamente importante ricostituire questa realtà per quello che riguarda i quartieri e le periferie ho sempre detto che devono essere come diceva il dottor Busca considerati tutti sullo stesso piano ma ad oggi basta uscire di casa andare in alcuni quartieri in alcune periferie e vediamo che non è così perché comunque a parte qualche eccezione e faccio una battuta con tutto il rispetto per Sant'Orso dove si è concentrati molti lavori e molte attenzioni ma io questa mattina ho incontrato dei cittadini a San Lazzaro dove che mi hanno rimostrato il fatto che si sono sentiti molto abbandonati da questa amministrazione che ha fatto molto poco per San Lazzaro perché Villaggio Ciano ce ne stiamo parlando però se giriamo per quel quartiere ci sono molti lavori da fare molte situazioni da risolvere anche le strade perché se noi guardiamo via Lelli via Giulini e via Vittorio Veneto non so quella è una strada percorsa dalle ambulanze in emergenza non so con quale criterio sono state fatte le agende delle asfaltature perché quelle strade non sono state mai pensate poi parliamo del decoro e parliamo di tante cose che necessitano certamente penso a Carignano penso a Carrara che è un altro luogo da seguire benissimo assolutamente per il fatto di questa nuova centrale elettrica che è molto molto discussa come penso a tanti altri quartieri che mi sembra che hanno bisogno e che non sono stati non sono stati attenzionati abbastanza quindi quello che io posso dire è che ci sarà questa attenzione nei confronti dei quartieri e delle periferie per Carignano spero che si risolva il discorso delle nuove terme perché è una risorsa è un indotto economico molto importante ed è anche importante per quel centro insomma i borghi i piccoli borghi le piccole zone di Fano non mi sembra che siano stati un po' trascurati da questa amministrazione grazie Paul Legioni ho sentito prima parlare di Metauriglia divisa dalla statale per cui l'ultima domanda appunto riguarda quello che è il problema del viario il traffico di attraversamento del centro di Fano continua ancora ad essere attraversato dalla statale la strada interquartieri è interrotta alla trave e non sfoga e non arriva quindi a Gimarra il casellino di Fenile è rimasto solo sulla carta direi che va fatto un discorso complessivo sulla viabilità a Fano magari con un nuovo piano del traffico e con nuove infrastrutture cosa ne pensate avete a disposizione due minuti ciascuno inizia a rispondere Etienne Lucarelli no innanzitutto per rispondere prima a Pollegioni tutto bene adesso criticare l'amministrazione per il piano d'asfaltature insomma sappiamo di avere 450 km di strade le stesse di Pesaro e sappiamo di avere molte e meno economie di Pesaro qualsiasi amministrazione arriva e dice che riusciamo ad asfaltare tutto sta dicendo una stupidaggine ricordo nelle Raguzzi non è riuscito a asfaltare in dieci anni neanche un terzo delle strade che abbiamo asfaltato noi oggi certo ci vorrebbe arrivare ovunque perché le necessità sono tante ma è altrettanto certo che non possiamo raccontare che facciamo consigli dei quartieri in 100 giorni asfaltiamo tutto perché è lo stesso cosa del racconto della sanità fatta in campagna elettorale e poi arriviamo il dunque i 4 anni non si è fatto niente quindi bisogna essere amministratori seri e responsabili raccontando ai cittadini le vere cose ciò è rimasto pochissimo tempo viabilità è un tema fondamentale la città deve essere collegata in modo viario sud-nord chiaro che in questo momento il casellino è una soluzione per andare a Pesaro come è altrettanto chiaro che secondo me serve un asse che collega i latori interquartieri con la zona di Gimarra con la zona del Carmine e è molto importante la nuova viabilità stradale che dall'attuale rettatoria di Tombaccia arrivi a Marotta perché serve a liberare la statale 16 è fondamentale l'asse viario della Contessa e della Fano Grosseto perché la nostra città ha subito i danni devo dire sinceramente di una politica non lungimirante con la quadrilatera sud la città ha un rapporto sociale economico culturale con Gubbio c'è bisogno di mantenerlo la Contessa deve essere riqualificata e c'è bisogno anche di portare a termine la Fano Grosseto in modo serio non soltanto realizzando una canna ma facendo tutti i lavori e poi c'è tutto il tema della viabilità sostenibile che deve collegare delle ciclabili urbane ci devono essere ci deve essere una ciclovia più importante e impostata insomma la viabilità è un tema focale tutti i progetti messi in ordine devono essere portati a termine bene grazie Lucarelli Stefano Polleggioni beh sulla viabilità sulle piste ciclabili mi ripeto avete avuto 10 anni e mi sembra che c'è molto ancora da fare perché è importante fare un progetto che sia un collegamento diciamo più più ravvicinato più generale più più importante per la mobilità delle biciclette e per quello che riguarda invece tutto il resto io continuo a guardare le strade perché comunque le strade vanno sistemate e per quello che riguarda quello che ho detto prima non ho detto che dobbiamo asfaltare tutto ma ho detto la scelta nell'agenda e il criterio perché ci sono strade importanti che sono state trascurate dal discorso delle asfaltature poi parliamo anche della segnaletica e quindi gli attraversamenti c'è bisogno di rifare tutti gli attraversamenti poi parliamo anche delle opere più importanti perché perché sarebbe ora e noi lo faremo di iniziare a parlare dello spostamento della statale con una variante che vada ad unirsi con quella di Pessaro e con quella che è iniziata già che esiste già a Senigaglia in questo modo daremmo un grande supporto anche per quello che riguarda poi tutta l'organizzazione diciamo del mare quindi toglieremo andremo a togliere tutti i vari pericoli che arrivano dall'attuale dall'attuale statale la guinza mi risulta che sia partita è importante per Fano e questo questo lo sappiamo io insieme al mio partito abbiamo fatto partire e intanto iniziamo a parlare del progetto anche della Fano Roma che è un altro tratto altrettanto importante e poi parliamo della pista dell'aeroporto perché noi faremo la pista dell'aeroporto mentre mi sembra che il sindaco Seri che la promisse non gli è stato permesso se non sbaglio di farla bene l'ultima parola a Tiziano Busca se fosse un esame chiederei una domanda di riserva perché direi che il professore non ce l'ha spiegato quello che deve essere la viabilità in questo territorio perché effettivamente il tema di fondo intorno al quale noi votiamo è quello che dobbiamo inventarci cose che già la natura e la storia ci ha segnato quando si parla di Fano Sud la complanare e tutto il resto l'avevano già fatti i romani ma tanti tanti secoli fa ed era la strada di mezzo che congiungeva Senigallia quella strada che proseguiva in quel tratto di complanare che hanno fatto si congiungeva Fenile perché da Fenile passava naturalmente per le vie di mezzo fino a Pesaro in località Santa Veneranda bisognerebbe cogliere il senso dei progetti non si taglia la faccia della zona di San Biagio per un tratto di strada di pochi chilometri bruciando un patrimonio naturalistico e si perdono 20 milioni di euro per realizzare invece possibilmente ed erano le risorse giuste il famoso discorso della bretella per arrivare al casellino allora ciò che noi raccogliamo è proprio la visione del giorno per giorno una città vive su un progetto lungo di un respiro vero non di una fattualità vive su una immaginazione di sviluppo territoriale che corrisponde alla naturale vocazione di questo territorio io dico soltanto due cose ma come è possibile realizzare il polo logistico in un'area che per essere raggiunta dai tir ha bisogno di una gincana che nemmeno nella curva senna si riesce a fare durante il gran premio di mondo non è possibile io dico che quell'area che ha una vocazione di tipo commerciale ha bisogno di uno spazio vicino alle grandi distribuzioni ai grandi nodi viari tutto qua grazie Busca noi siamo arrivati al termine di questa puntata per cui passo ai saluti a Tiziano Busca del PSI componente della coalizione progressisti per Fano 2050 un saluto a Detti e Lucarelli di noi civiche Fano facente parte della coalizione di centro-sinistra e Stefano Poligioni di Udici per la coalizione di centro-destra un ringraziamento particolare anche al giornalista Silvano Clappis grazie come sempre noi ci fermiamo qua la prossima puntata sarà lunedì 6 maggio subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti